vista l'attuale situazione di intel come prestazioni a livello di gaming possiamo dire che senza ombra di dubbio il 98 x 3d è il nuovo re delle prestazioni nello stesso campo abbiamo visto che le recensioni di intel sono state un po sì c'è stato qualche aumento nelle produttività ma non sempre lineare e nel gaming qualcosa ha lasciato desiderare però ovviamente voglio dire una cosa a favore di intel ovviamente il fatto che abbiamo visto un'aumentata un guadagno di performance per watt e quindi consuma di meno la cpu ma soprattutto c'è da dire che essendo state fatte le recensioni all'inizio quindi magari molti non conoscendo come settare perfettamente il sistema magari anche il software di intel non è ancora ottimale diciamo che probabilmente un qualche più di prestazioni si vedrà ma di certo non si vedranno le prestazioni per il momento del 1490 k ks o kh come volete anche perché quelle cpu friggevano leggermente sapete 350 watt di consumo e quindi diciamo che ancora una volta il 7.8 x 3d e tutte le versioni x 3d del zen 4 in gaming sono migliori e probabilmente anzi sicuramente anche il 9.8 x 3d è uscito il primo leak del benchmark fatto in geek bank e come vedete al 22 per cento più veloce confrontata al 7.8 x 3d in single core e vediamo qua multi core performance attualmente c'è stato ancora una volta un uplift e ormai le specifiche riconosciamo sono più o meno identiche al zen 4 8 core 16 thread 32 megabyte di cache l3 più 64 disram quindi di 3dv cache e 120 tdp e di limite la cpu a 4.7 gigahertz di base clock 5.2 di boost clock a differenza di 4.2 base clock del 7.8 x 3d e 5.0 di boost clock del 7.8 x 3d e poi ovviamente si è visto che probabilmente supporterà anche in overclock le 8.000 mt questi sono i risultati in geek bank come vedete 3.305 in single core e 18.221 in multi core che questo ci dà esattamente il 22 per cento in single core e il 20 per cento in più in multi core sul 7.8 x 3d praticamente questa cpu è diventata anche una produttiva di cpu da delle prestazioni che sono state tirate fuori qui vedete la ricapitolazione su tutti gli altri cpu vedete che il core 9 ultra 285 in single core ce lo danno ovviamente più veloce in geek bank ve l'ho detto precedentemente ma purtroppo le prestazioni in gaming va un pochettino giù questo è quanto finora sappiamo e se queste sono le prestazioni in geek bank quindi produttività che sono davvero ottime e ovviamente pongono il 9.8 x 3d a livello anche se non migliore delle recenti cpu per la produttività c'è solo di ben sperare anche per le future 9.900 x 3d e 9.950 x 3d quindi 12 e 16 core diciamo che intorno a questa notte ci dovrebbe essere la presentazione ufficiale ma mi immagino che più o meno usciranno questi numeri come avrò altre news ovviamente ve le dirò e vi metterò a conoscenza a questo punto non mi resta chi augurarvi una grande serata lasciate un like commentate condividete e ci vediamo al prossimo video buona serata a tutti